Nei supermercati F3 dal 18 al 31 gennaio il fresco è in tavola. Trita di bovino adulto 4,30 euro al chilo, polpa per brasato di bovino adulto 8,40 euro al chilo, fettine per pizzaiola 8,90 euro al chilo, arrosto di pollo 6,80 euro al chilo, petto di pollo a fette 7,90 euro al chilo, verzini di suino 6,25 euro al chilo, pollo busto 3,20 euro al chilo, cotolette di suino 5,90 euro al chilo, pancetta steccata a fattorie 9,90 euro al chilo, sottofesa all'inglese 19,50 euro al chilo, prosciutto cotto ibisco 9,90 euro al chilo, prosciutto di praga 9,90 euro al chilo, formaggio gardena 8,50 euro al chilo, formaggio latteria 9,50 euro al chilo, mozzarella di bufala campana 10,90 euro al chilo, toma piemontese DOP 9,50 euro al chilo, taleggio DOP 7,90 euro al chilo, salame Strolghino 10,90 euro al chilo, inoltre tantissimi prodotti scontati alla cassa solo per i possessori di F3 Card, prodotti linea 0,24 Beretta sconto del 30%, tisana dopo pasto o dolce notte sconto del 33%, barretta peso forma sconto del 20%. Supermercati F3 ad erba in via delle Grigne, a Canzo in via Laguccio e a Guanzate in via Roma.